Buongiorno a tutti e benvenuti ad una fantastica nuova morning session di analisi su bitcoin con Evoluta. Oggi è domenica 11 settembre, sono le 9.22 e vi confesso che una delle cose che mi è sempre piaciuta moltissimo di bitcoin è che mi ha dato la possibilità di illustrare alle persone tantissime regole dell'analisi Evoluta e mi ha permesso quindi di far comprendere a persone che si sono messe a ascoltare e riascoltare i video e a studiare di arrivare estremamente velocemente a dei livelli che invece gli altri non riescono ad arrivare. Per cui anche oggi ci raccontiamo che cosa sta succedendo. Vi ricordate che nella scorsa edizione vi avevo detto che ci si aspettava una chiusura di un T-2, ma anche di un T-1. E quindi mi aspettavo un po' di discesa. Qui ne abbiamo avuta ben poca di discesa perché dai 21.662 siamo arrivati ai 21.138. Però regole. La cosa più bella è che chi non si aspetta un segnale e invece si mette a fare il percorso che ho scelto di fare io all'inizio quando ho incontrato la vecchia ciclica fa che cosa? Dice ok, ho ascoltato l'analisi. Adesso piano piano sto iniziando a capire che cosa sono questi T, questi T-3, le regole, due sottocicli inferiori, il raccordo, eccetera, eccetera. E però adesso voglio fare le cose da me perché se no poi rischio di farmi male. Fare le cose da sé, ovvero riguardare qualsiasi cosa da soli, dopo averla studiata, a che cosa porta? E porta a un passo sempre più vicino all'indipendenza e a non dover più venire neanche teoricamente sul canale a vedere che cosa stiamo dicendo. Per cui, iniziamo da una cosa interessante. Da che minimo è partito il terzo T-3? È partito da un minimo a 21.136 dollari. E dov'è che ha chiuso? Ha chiuso qui. A 21.139 praticamente questo è un ciclo che ha fatto un doppio minimo. In realtà è un ciclo neutro, non ha fatto nulla. Ma attenzione. Che, per quanto tempo, tornando a ritroso da questa parte, siamo stati anche soltanto sotto, anzi, sopra questo minimo. Siamo stati sopra questo minimo, se vogliamo proprio prendere uno dei cicli base, ma in realtà possiamo anche poi prenderne altri, anche qua, eccetera, quasi un T-3. Un T-3 dura massi, minimo 24 barre, qui siamo a 19. E quindi, che cosa chiude un ciclo giornaliero T-3 ribassista? Chiude tutto un settimanale. A noi che chiusura serviva? A noi serviva la chiusura per un T-1. Qui hanno voluto fare un T-1 a tre tempi. Un T-1 è un ciclo a quattro tempi normali, ma puoi durarne tre o puoi arrivare a cinque. Primo ciclo giornaliero, secondo ciclo giornaliero, terzo ciclo giornaliero, e tutta la possibilità che su questo minimo si sia chiuso persino un T-1, perché c'è la condizione necessaria e sufficiente. In questo modo, che cosa fanno gli HFT, gli algoritmi che muovono i mercati? Cosa fa una persona normale quando vede una salita di questo tipo? Tra l'altro da noi perfettamente preventivata nei tempi. Una persona normale prova uno short, ma non riesce a prendere sempre i massimi. Anche se li prendesse però, quando si fa una discesa sufficiente, necessaria e sufficiente a ripartire, si trova con le reni spezzate. Ecco perché, e da quando ci siamo avvicinati tanto all'ultimo giorno in cui poteva rimbalzare, ho continuato a dire in ogni video, io short non vado, non sono andato short qui, non andrei short dopo e continuo a dire, valutate se lo volete fare. Perché? Perché qui so già che non è partito soltanto un T settimanale, che lo swing violato non è soltanto questo. Adesso, se torniamo indietro e se vediamo già dove siamo arrivati, e qui di swing ne ha violati una bella quantità. Per cui, non mi azzardo neanche a morire a provare a fare un'operazione in totale contro trend. Anche se c'è la possibilità che qui stia, possa partire un raccordo, qualsiasi altra cosa, non mi interessa. Non mi metto nei guai da solo. Questa è la fantastica cosa che Bitcoin mi permette di dire in questo momento. Oltretutto, facciamo un altro discorso interessante. Io ho preferito essere prudente e, quando ci sono certi movimenti, rimanere flat. Ma, guardate qua, 28 barre. Qui arriviamo già a 45, una in più delle 44 massime. Quando c'è una barre in più soltanto, aspetto un attimino e non mi muovo. Preferisco capire di che morte morire. Dato che, però, la perfezione sta nei dettagli, chiusosi il quarto t-3 inverso, ci ricordiamo un'altra regola. La regola è che un t-inverso, può anche chiudere, non a 4 cicli giornalieri inversi, ma un t-1 inverso, appunto, un ciclo a 4 giorni in media, poi va anche a 5. E che cosa succede? Vincolo a rialzo, di inverso, vincolo a ribasso di inverso, quindi vincolo a salire, discesa molto vicina al minimo di partenza, risalita, discesa di nuovo profonda, sempre però crescenti questi minimi, poi, qualche cosa che rischierebbe di spezzare un po' le rene a tutti, perché qui si va sopra il, anzi, si va quasi sopra, giusto, il massimo per quanto riguarda l'inverso, perché l'inverso è questo, si va quasi sopra questo primo massimo su un ciclo ribassista di inverso, cioè con i massimi crescenti, che non è una bella cosa ma che l'abbiamo già vista, quindi la stiamo già archiviando come potenziale, e poi si va finalmente a chiudere. E in quanto tempo? E si va a chiudere? Entro le 44 barre? O caspita, sì, 40, ma dimmi tu. Per cui, questa è la bellezza delle regole che ci danno protezione, dell'osservazione dei grafici che ci dà protezione, e della capacità a un certo punto di, grazie proprio a queste regole, riuscire a fare da soli. Ci sono delle persone che mi chiedevano di fare il corso che ho incontrato nella vita reale, e che adesso mi hanno detto, guarda, io ho già degli ottimi risultati, ci penso, non sono più tanto convinto se voglio fare qualche cosa a livello di corsi, perché per ora a me basta così. ecco, questa è una delle cose più favolose che mi possa capitare. essere stato in grado di comunicare a una persona estremamente in gamma, probabilmente, estremamente ricettiva, le modalità di approccio al mercato grazie alle volute, e questo riesci a fare da solo, indipendente, senza fare nient'altro con me. Fantastico. Ritorniamo a noi però, ok? Quindi, ripasso delle regole, fatto. Siamo arrivati al quinto t-3 inverso, con partenza del sesto. Adesso concentriamoci sul da farsi. Allora, qui, su questo minimo, sappiamo che può essersi chiuso anche un t-1. Se si è chiuso un t-1, guardate che caso. Siamo a quante barre qua? 24 quasi? Siamo a 23 barre. Perfetto. Con 23 barre, anzi 24 nella realtà dei fatti, lanciamo un nuovo t-1. Ha senso provare uno short se non riusciamo in nessun modo a superare la media mobile a 50 periodi, quella più veloce e il livello inferiore della Kumo? Valutatelo voi. Io so già che cosa non faccio in fase di partenza, di che cosa. Potenzialmente, in questo momento abbiamo come confermata un t-1 bisettimanale. Lo swing ci dice che abbiamo superato qualcosa di più di un settimanale, bisettimanale. Qui però si è chiuso un trimestrale, quindi può essere partito come minimo un mensile. Voi vi mettete contro la partenza di un mensile? Va bene. Sarà un'esperienza interessante da fare. Ok? Io preferisco, soprattutto all'inizio, e se proprio non capisco che può chiudersi in un ciclo settimanale, non andare short, continuare eventualmente ad aspettare che scenda per rimettermi long. So che non è facile, so che la tentazione è fortissima di mettersi short dopo candele come queste, però vedete, qui ha costituito una base di prezzi, che tra l'altro c'era già qui, su cui tra l'altro si erano imbalzati qui, che era tra l'altro il tetto che non si riusciva a superare qui. Queste sono cose che si possono guardare con la mera analisi tecnica che rientra nell'evoluta, una piccola parte dell'evoluta, ma che vanno osservate. Qui abbiamo ormai dei livelli di resistenza, di supporto. O li superiamo con una candela verde stratosferica e ci rimaniamo sopra e ha una determinata forma la candela, perché nell'evoluta c'è anche lo studio delle candele giapponesi, pure sono cavoli, ok? Perché facciamo anche questo ragionamento. Uno, che belle le divergenze quando ogni tanto vengono rispettate. Cancelliamo queste divergenze, ok? Andiamo a vedere se c'è un'altra divergenza adesso e di che tipo. E' in accordo magari con i cicli. Allora, da qua a qua non abbiamo avuto una violazione dei 21.930. Il massimo che abbiamo fatto è stato 21.802, quindi non 930. Massimi decrescenti, togliamo anche questo perché se non si capisce più niente. Massimi decrescenti. E da qui invece stessa identica candela. Torniamo giù, torniamo qui e qui invece i massimi sono crescenti. E quindi? E quindi? Ricordiamo sempre come base alle volute. Qui siamo arrivati a 28 barre di primo mensile inverso. Minimo 24 barre, in media 32, al massimo 43. C'è la tabella, ok? In ogni caso, l'ultimo settimanale è arrivato sia la sua durata minima a 6 giorni, ma non con una con un massimo assoluto e una candela verde. Per cui non ha chiuso ancora. Qui abbiamo 21.802 e 21.688. Questa ha fatto il massimo. Ma questa è la 1, 2, 3, 4, quinta candela. Non si chiude a 5 candele. Il settimanale inverso. Minimo 6 e con candela verde. Per cui questa per adesso non ci serve. Ma capite che basta una candela verde con un top di chiusura e appena chiuso e tra l'altro in quest'area estremamente sensibile del grafico che si può iniziare ad avere un po' di discesa per fare che cosa? Lato indice invece a quante candele siamo arrivati? 1, 2, 3, 4, 5 per chiudere il settimanale. E anche qualche cosa di più. Perché? Perché se chiude solo un mensile cioè, scusate, se chiude soltanto un settimanale inverso un paio di barre sotto un massimo e poi si può provare a sfondare e a salire. Ripeto, se si chiude questo T inverso dato che siamo a 28 ci sta ancora un quinto T inverso un quinto settimanale inverso. Se chiudiamo a 7 barre 8 barre o quando volete c'è tutto il tempo per fare altri 6 giorni 7 giorni 8 giorni eccetera per arrivare fino a 43 durata massima di un mensile inverso. e a quel punto si può ancora salire e aggiornare i massimi se avremo la partenza di un quinto T inverso che richiede solo 2 barre in realtà 48 barre da 45 minuti sotto un massimo per poter poi vincolarsi a ribasso per quanto riguarda l'inverso ovvero rialzo i prezzi e quindi superare questo livello e andare ancora più su. vedete alcuni hanno iniziato a provare a dire che anche i loro metodi sono statistici matematici o altro oppure c'è un rifiorire di analisi ciclica ma la vecchia ciclica paragonata all'evoluta vale ben poco e lo potete vedere dagli appunti gratuiti che distribuisco la mail info chiocciola financialarmor.eu che rilascerò di nuovo nella descrizione del video non nei commenti è nella descrizione del video i tempi sono cambiati rispetto ai vecchi cicli chi utilizza questa tabella qua precisa precisa e tra l'altro sta provando a dirvi che conosce l'evoluta e però chi è che l'ha inventata io per cui adesso avete già un'idea di base di che cosa aspettarsi vuole far partire un T-1 inverso e poi andare io aspetto discesa e mi metto long sulla discesa perché voglio arrivare fino a un massimo superiore o pari a 21.802 dollari poi arrivati alla condizione necessaria e sufficiente per la chiusura di questo quarto T-inverso che in questo momento non abbiamo inizio a prepararmi per una discesa più forte per andare alla chiusura del primo settimanale di questo mensile partito dopo la discesa attendo un minimo e valuto di nuovo un long per vedere se andremo in violazione di questo massimo altrimenti rischiamo come al solito un raccordo ma questa è una delle cose che non ho voglia di prendere in considerazione ce l'ho in un angolo della testa e prego tutti di non continuare a raccontare anche nei commenti potrebbe essere un raccordo non conoscete la definizione di raccordo è una roba di paginate ok per cui non utilizzatela con troppa facilità bisogna conoscere anche in questo caso delle regole e quelle lì si possono solo apprendere da me non c'è altra possibilità ma basta per fare semplice trading avere un'idea di che cosa può succedere tutto qua perché di nuovo dalle regole possiamo trarre anche molta tranquillità nei movimenti ribadisco è una possibilità ma caspita che spinta quindi iniziamo a rimuovere la parola raccordo dalla nostra testa e valutiamo appunto nuovo t più uno e t più due tra l'altro esattamente nei tempi dati per il rimbalzo altre cose in particolari non ve le racconterò ho già dato altri swing ovviamente nel gruppo premium qui come di consueto se qui avremo finalmente una ripartiamo da qua qui 22 barre non ci piace un'ultima discesa potenzialmente anche sotto o in pari o in zona di questo minimo 21.359 ricordatevi che manca pochissimo per ritornare invece qui sopra e chiudere il settimanale inverso con una salita a voi come di consueto la scelta del da farsi e fate attenzione perché questa è la nostra il nostro supporto dinamico che ci permette di capire se tiene e se si continua a spingere il rialzo oppure se bisogna aspettare una discesa un minimo assoluto per poi rivalutare un long spero che tutte queste informazioni vi siano piaciute vi abbiano dato un'idea di come si fa trading in maniera professionale non da youtuber improvvisato che ha fatto magari un pochino di analisi tecnica negli ultimi 2-3 anni come di consueto la domanda è quando avete visto che un canale sbaglia in continuazione le previsioni e anche di grosso vi serve continuare a essere iscritti vi serve continuare a perdere tempo o magari è meglio utilizzare quel tempo per studiare un metodo statistico matematico che porta dei risultati concreti con dei trade fatti anche dal vivo che hanno portato dei bei risultati a voi la scelta ognuno di voi la scelta io all'epoca ho fatto la mia scelta e la mia scelta di diventare indipendente di farmi l'analisi da me mi ha portato qui su questo canale di oltre 13.000 iscritti in un anno più o meno di impegno e di lavoro questi sono altri fatti vi ringrazio per il vostro tempo vi auguro una splendida domenica e vi auguro anche un'altra cosa di comprendere chi volete essere perché nella strada per diventare trader bisogna anche comprendere quello chi si è chi si è innanzitutto e lo si scopre dall'emotività che si ha quando si fa trading e che cosa si vuole fare eventualmente per migliorarsi grazie ancora per l'ascolto splendida domenica a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti